Questa è la scelta di Cuglielmo e l'Università! L'Università numero 9, Lanzaro di Cuglielmo, Zalessandro! Il numero 12, Alexander Donovan, Berger! Il numero 14, Alexander Magnum, Odonazia e Lins! Il numero 15, Luciano, Ilmos, Dececo! Il numero 17, Emanuele, Bamba, Vila, Venti! Il numero 18, Marco, Votche, Bonasciani e Lins! Il numero 16, Andrea Bonetto, Vali! Infattina, Lorenzo, Nero, Bernardi e Carmi del Pozzogno.